La seconda giornata per il leader della CGL è iniziata da qui, da questo slargo davanti all'impianto dei cantieri navali. Questa mattina dopo un'assemblea dei lavoratori, sono un centinaio su 484 in cassa integrazione a rotazione a zero ore, la piazzetta è stata intitolata alla sindacalista della FIOM CGL Giovanni Orcell, ucciso dalla mafia, la notte del 14 ottobre del 1920 in corso Vittorio Emanuele a Palermo. Un gesto simbolico ma anche concreto, ha detto la Camusso, perché mantenere viva la memoria di chi è stato ucciso consente a noi di rilanciare ogni giorno il nostro impegno per il lavoro e la legalità. E di lavoro si è parlato anche oggi dopo avere passato in rassegna tutti i temi toccati dalla Camusso, dai rapporti con il governo Renzi, è stato un po' sprezzante ma noi siamo pronti al confronto, alle disponibilità per la cassa integrazione in deroga, il ministro Poletti ottimista, a noi risulta che manca ancora qualche centinaio di milioni per chiudere il 2013 e per il 2014 siamo di fronte ad una scopertura sino alle pensioni. Bene che il governo abbia abbassato la tassazione sul lavoro dipendente ci aspettiamo un provvedimento anche per i tanti che non hanno pensioni alte. Il secondo passo, ha aggiunto, è dare una risposta ai disoccupati e ai precari. Ci vuole una qualità dell'intervento pubblico che determini la creazione di lavoro e prospettive. Ma la Camusso è tornata naturalmente sul dramma dell'assenza di risposte concrete per il dopo Fiat a Termini Merese. Non mi pare che ci sia un'effettiva disponibilità della Fiat a lavorare per la reindustrializzazione di quest'area. Infatti noi abbiamo assolutamente bisogno che per una realtà come Termini Merese, ma non solo, continui ad esserci uno strumento di sostegno al reddito per i lavoratori ma soprattutto di impegno alla reindustrializzazione di quell'area. lo diceva adesso il segretario di Palermo facendo la relazione, c'è bisogno che la regione riconfermi il contratto di programma e le disponibilità e c'è bisogno che sia chiaro che quella promessa che la Fiat fece alla chiusura dello stabilimento che avrebbe favorito la reindustrializzazione diventi realtà, perché non ci pare in realtà che ci sia un'effettiva disponibilità a lavorare per la reindustrializzazione dell'area. Questo porta al tema della cassa integrazione in deroga, su cui tante cose si dicono. La prima che bisognerebbe dire è che non basta sapere che non ci sono le risorse, bisogna trovarle le risorse perché non si può lasciare centinaia di migliaia di lavoratori senza una prospettiva o un sussidio.